La salute significa avere una casa, avere un lavoro, avere un'alimentazione corretta, relazioni familiari, avere un ambiente corretto, ecco perché ambiente, teleambiente ha un valore fondamentale, se è un ambiente corretto non ci sarà mai salute, era questo il periodo in cui discutere del clima, di una visione attenta alla natura, nel momento in cui abbiamo distrutto la natura, cioè ma perché c'è stata la pandemia, che cos'è un salto di specie, vuol dire che degli animali che avevano un virus e si trasmettevano tra di loro, nel momento in cui l'uomo ha distrutto le foreste questi animali sono andati nelle campagne, oppure l'uomo è andato a urbanizzare le foreste, gli animali tra di loro hanno continuato a trasmettere il virus ma poi hanno incontrato l'uomo, c'è stato un animale probabilmente di riserva e l'uomo si è infettato, ce ne saranno delle altre probabilmente in questa logica, allora io non sento mai discutere in questo momento di come evitare il prossimo salto di specie, forse è in questo momento che noi dovremmo prepararci a evitare un altro salto di specie, sottolineo solo una cosa, ci sono oltre un milione e 600 mila microorganismi di cui almeno la metà sono potenziali per l'essere umano, non si è discute affatto, voglio dire tra un coronavirus, il virus HIV, altri virus, ce ne sono tantissimi altri, sarebbe il caso che noi ci mettessimo a studiare come evitare altri salti di specie. I 30 al secondo finale, non abbassare la guardia, due di riserva, perché ogni quattro ore vanno cambiate ed è fondamentale lavarsi le mani con acqua corrente e sapone, il cui costo è molto basso, la mascherina e il distanziamento non sociale ma il distanziamento fisico.